Viaggiavano con la droga e a bordo di una macchina con targa straniera scaduta. Protagonisti due ragazzi di origine magrebina di 25 e 37 anni. A fermarli e arrestarli ci hanno pensato gli agenti della Polizia di Stato di Arezzo lungo l'autostrada del Sole. Una pattuglia della Polstrada di Battifolle ha fermato per un controllo una Mercedes-Benz classe A con due persone a bordo che stava percorrendo la carreggiata sud della A1. Poiché l'auto era munita di una targa doganale tedesca comunemente chiamata Zoll la cui validità era scaduta a marzo e quindi non valida per la circolazione sul suolo nazionale gli agenti avevano deciso di fermarla accompagnando gli occupanti in ufficio per un controllo. I due, capito che l'auto sarebbe stata sequestrata, hanno cominciato ad agitarsi tanto da indurre gli agenti ad eseguire una perquisizione dell'auto perché era chiaro che stavano nascondendo qualcosa. Nel cruscotto, dietro all'autoradio e sotto il vano che ospita l'airbag, è stato così rinvenuto un involucro di cellophane contenente quasi 100 grammi di cocaina. I due, entrambi incensurati e in possesso di regolare permesso di soggiorno, risiedono nell'aretino. I poliziotti hanno richiesto ausilio ai colleghi della squadra mobile della Questura per andare ad eseguire un'immediata perquisizione domiciliare, che però non ha portato a scoprire altro. I due giovani magrebini sono stati quindi arrestati e rinchiusi alla casa circondariale di Prato e sono ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.